Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi della collezione natalizia di Too Faced. Avevo fatto un po' di tempo fa quella dedicata a Kiko e oggi voglio fare anche quella di Too Faced perché ha un sacco di edizioni limitate e di prodotti che mi sono veramente piaciuti tantissimo. Quindi direi di partire subito con questa breve carrellata tanto per farci venire qualche voglia di shopping. Questa collezione ci propone una meravigliosa palette di ombretti. Sono 18 ombretti in polvere morbidi e sfumabili per una versatilità cromatica adatta a diversi incarnati e sottotoni. Ha tonalità da vaniglia fino a marrone cioccolato, un packaging bellissimo color cannella con gli omini di pan di zenzero e un profumo speziato. Poi ci sarà in questa collezione una palette viso e occhi, un packaging giallo, sei ombretti, due illuminanti in formato tascabile, colori da giallo curcuma e curry a cappuccino e caramello con gli illuminanti crema e burro. Poi una collezione regalo veramente bellissima, sono tre mini palette viso e occhi, ciascuna con quattro ombretti e un blush dal finish shimmer e opachi con un packaging che rappresenta una casetta fatta di biscotti e dolci. Sono in tutto tre palette, una colori pesca fragola e marrone cappuccino, un'altra rosa lampone viola burro ametista e rosso e poi abbiamo un nude sottotono beige, un marrone cioccolato, un biscotto toffee. Poi un'altra palette bellissima è quella viso e occhi che è un pupazzo di neve tutto al femminile, composto da tre palette viso e occhi in formato viaggio e un mascara. La palette occhi presenta 19 ombretti nude con sottotono marrone e con toni vivaci di verde viola e corallo. Poi la palette viso è composta da quattro blush matt e shimmer con toni rosa corallo e prugna. La palette viso ha l'illuminante e la terra e poi c'è il mascara in formato viaggio di colore nero. Abbiamo poi la polvere illuminante che è una polvere libera dalla texture leggera ad effetto seta con morbido puff al profumo di zenzero e cannella. Poi un rossetto liquido matt nella formula nutriente e idratante con vitamina E, acido ialuronico e olio di avocado. Colore intenso, cremoso, matt e una lunga durata. I colori sono arancio con sottotono marrone e rosso mattone. Poi ci sarà un bellissimo kit regalo di lip gloss, sono quattro luci da labbra per un colore e una luminosità multidimensionale grazie alle perle multi riflettenti e oli naturali con delicato profumo. C'è il trasparente dai riflessi ghiaccio, giallo arancio con un packaging dal tappo ultra natalizio, rosso speziato con sottotono dorato e rosa baby con glitter oro e argento. Poi ci sarà un bellissimo cofanetto con mascara e eyeliner. Sono quattro mascara e due eyeliner in un cofanetto nero rosa e oro per un make up occhi impeccabile. Poi è molto interessante la pochette regalo con le fragole e i frutti di bosco. Ci sono dei richiami esotici, lip gloss nude con sottotono dorato, un mascara multi effetto e poi un duo blush e illuminante rosa fragola matt e shimmer. Poi ci sarà un maxico fanetto regalo bellissimo perché è decorato con caramelline e stelle, casetta di natale ricco di prodotti per make up viso e occhi. Ci sarà intanto una maxi palette occhi con 20 ombretti matte, shimmer, glitter dal nude al nero con verdi, marroni e rosa. Poi una palette occhi a 6 cialde matte e glitter, extra luminose, marrone, cioccolato, oro, rosa pesca e ametista, una palette viso composta da bronzer, blush, illuminante marrone e biscotto, rosa fragola, rosa dorato, matte, poi un mascara multi effetto formato viaggio, un rossetto liquido matte formato viaggio, un primer occhi dalla durata di 24 ore in formato viaggio. Poi ci sarà un bellissimo cofanetto regalo con una palette multi uso con 20 ombretti multi finish e blush, illuminanti e polveri bronzer, colori oro, marrone, rosa, verde, con mascara multi effetto, lip gloss rosato dal sottotono ghiaccio e poi c'è una pochette meravigliosa con l'omino di pan di zenzero. All'interno troverete una terra abbronzante compatta color biscotto decorata con l'omino, poi un rossetto color arancio e opaco con lo stick tutto decorato e la pochette che ha questa forma di omino di pan di zenzero. Poi una decorazione con il mascara, quindi ci sarà la decorazione per l'albero di natale che è l'alberello rosa ghiaccio con mascara, formula mousse crema ultra leggera e scovolino allungante e la confezione naturalmente potrete appenderla all'albero di natale e poi una decorazione natalizia con la donnina di pan di zenzero e un mascara nero per ciglia definite e che potrete anche questa volta appendere all'albero di natale. Una bellissima collezione innegabile, molto particolare, molto bella con tutte queste decorazioni, con gli omini di pan di zenzero, davvero sono delle idee regalo meravigliose e poi i prodotti sono comunque di buona qualità. Io per oggi mi fermo, vi invito a farmi sapere nei commenti se avete acquistato qualcosa di questa linea, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme! Grazie a tutti!